Il 22 settembre il commissario regionale del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta, Paolo Picquereddu, ha comunicato che presso la sede centrale del Consorzio in piazza Asproni un operatore è stato riscontrato positivo al covid-19. Nella nota si legge che in via cautelativa si è scelto, nell'attesa di precise indicazioni dalle autorità sanitarie competenti, di chiudere i servizi al pubblico, annullare tutti gli impegni istituzionali e lasciare il personale del Consorzio e della cooperativa per i servizi bibliotecari in isolamento volontario precauzionale nelle proprie abitazioni. Oggi l'emergenza è rientrata. A seguito dei test effettuati, tutto il personale della struttura è risultato negativo e dopo aver proceduta la necessaria sanificazione certificata con lo zono di tutti gli ambienti della struttura, i servizi possono riprendere a pieno regime come ci ha assicurato Pasquale Magia, dirigente del Consorzio. Possiamo dire di stare tranquilli a loro, le famiglie, a tutti i nuoresi. Intanto ringraziare chi ci ha sentito, chi ci ha voluto chiamare, dare un senso di testimonianza e di vicinanza perché la biblioteca è nel cuore di tutti e tutti sono nel cuore della biblioteca. Come sa benissimo chi ha frequentato la biblioteca in questo periodo, siamo stati attentissimi alle misure precauzionali, tant'è vero che i medici non erano preoccupati per l'eventuale estensione del contagio con purtroppo chi lo ha preso, chi lo ha derivando da un focolaio esterno anche a nuoro stessa. Le misure che avevamo preso, costante mascherine, igienizzazione, distanziamento anche tra i dipendenti, paratie con gli utenti garantivano. Abbiamo fatto il tampone di sicurezza, siamo tutti negativi dunque riapriamo con maggior fiducia e chiedendo a tutti di essere come dire consapevoli che la sicurezza passa per i comportamenti personali. Per cui noi abbiamo fatto tanto, abbiamo 32 posti di studio, nessun'altra biblioteca in Sardegna ha tanti posti di studio aperto, gli utenti però sono pregati di tenere sempre la mascherina, igienizzarsi le mani quando arrivano, occupare solamente il posto che gli è stato assegnato e avere una distanza di sicurezza con gli altri. Attiveremo anche il termoscanner da lunedì, insomma i percorsi sono distanziati a entrata e uscita e tutto abbastanza come dire in ordine rispetto a qualsiasi tipo di aspettativa sulla sicurezza, per cui vi aspettiamo come sempre.